Visto che sei abbastanza afferrato, se ne manca la presenza per prendere quota 100, ma non è questo il problema. Sono sceso in categoria però perché volevo un ruolo da problemista, conosco bene la categoria, cerco di portare un po' di esperienza ai ragazzi, ma comunque c'è sempre da imparare anche dai più giovani, quindi è una bella sfida la mia, l'ho accettata subito perché ho visto la rosa, ho visto la struttura, conosco il mister, quindi si possono fare cose grandi, chiaramente non ci vuole tanta pressione, saremo bravi noi a non farla pesare, quindi sappiamo che abbiamo un gruppo, è una cosa molto forte. È un bel diritto da visita, però chiaramente poi dobbiamo far parlare il campo perché solo con il diritto da visita non si arriva alla montagna, quindi il campionato è lungo e non vediamo l'ora di cominciare.